buongiorno a tutti e benvenuti siamo arrivati anche quasi a fine mese 29 maggio mercoledì ore 10 e 02 siamo oramai nel vivo della sessione europea dei mercati finanziari con la situazione che vedete abbiamo un DAX che perde lo 0,47% Eurostoxx meno 0,40% Italia meno 0,39% quindi praticamente allineati le performance dei principali mercati europei a seguire ritraccia anche l'oro meno 0,22% il BTP continua a perdere terreno da arretrare 117 meno 0,20% quindi qua nessunissima sorpresa ma devo dire nemmeno sull'azionario ma tra poco ne parleremo meno 0,36 il Nasdaq meno 0,41 l'S&P 500 questa è la panoramica globale citiamo anche il bitcoin meno 0,82 ho fatto una scansione con i key reversal rialzisti e ribassisti in ipercomprato e in ipervenduto questi sono i key reversal ribassisti in ipercomprato dove vediamo pochissimi titoli Danieli sia le ordinarie che le risparmio Intercost Reply Telecom Italia sia le ordinarie che le risparmio per quanto riguarda key reversal rialzisti in ipervenduto abbiamo solo un titolo Gbus quindi questo a conferma del fatto che sia una fase quella che stiamo vedendo in questo momento di lateralità tra supporti di breve e resistenze di breve dove non c'è nulla di nuovo nel senso che le aspettative fino a questo momento sono state rispettate le aspettative di lunedì ad esempio mi era stato chiesto che come era da interpretare il key reversal ribassista weekly eccolo qua nei confronti del key reversal rialzista daily che si era formato su diversi titoli venerdì che si evidenzia anche da questa ombra molto bassa nella molto ampia nella parte bassa della candela settimanale e lunedì avevo spiegato già prima di leggere la domanda che questo è da interpretare come la possibilità di un ribalzo di breve che poi abbiamo visto lunedì seguito da una ripresa delle vendite in direzione dei supporti a dire il vero per adesso le vendite sono ritornate ma tutto sommato siamo ancora allineati con la chiusura di venerdì sui supporti weekly non ci siamo arrivati siamo distanti anche dal minimo segnato la settimana scorsa però insomma quantomeno siamo un mercato laterale che non ha la spinta per tornare nel breve sulle resistenze questo come view di breve periodo a livello di più ampio respiro questo è un mercato che continua a essere un mercato bullish è un mercato fortemente toro che nemmeno la stagionalità negativa di maggio ha tra virgolette ammazzato quindi per il momento rimane un mercato come detto fortemente toro in ottica di medio lungo un punto interrogativo c'è per giugno dovuto al fatto che sembra sempre più probabile un ulteriore rinvio dell'aumento dei tassi ma già questo ce lo dice come ho già detto più volte nelle trading room e come ho detto anche ieri su classe NBC ce lo dice anche l'andamento del BTP dove più volte mi sono sbilanciato dicendo attenzione il BTP rimane sotto resistenza il BTP è presto per andare a comprare questo lo dicevo sui 118 sui 117,50 adesso ce lo troviamo a 117 vicinissimo a questo supporto che vedete in giallo 116,50 eccetera quindi già io credo che con un'aspettativa di tassi in discesa il BTP avrebbe già iniziato a salire rompendo almeno i 119 questo non sta avvenendo anzi lo vediamo sul supporto di gennaio quindi vicinissimo ai minimi se togliamo questa candela settimanale il BTP è praticamente sui minimi dell'anno quindi l'aspettativa è quella di tassi fermi invariati e che le decisioni vengano rinviate a data da destinarsi andiamo a vedere la situazione anche lunedì abbiamo fatto il collegamento la trading room speciale insieme a 21 share abbiamo parlato di bitcoin dal bitcoin siamo usciti in trading stop profit nella rubrica report su derivati vi faccio vedere giusto perché mi viene chiesto spesso di fare degli esempi li ho fatti tantissime volte soprattutto devo dire in passato ultimamente un po' meno di fare gli esempi dei report di come funzionano eccetera eccetera tra l'altro è anche leggermente cambiata il funzionamento dell'invio dei report rispetto all'anno scorso vado in condivisione e vi vado a mostrare ecco qua ad esempio il report su future che comprende anche le crypto qui vedete che c'è un ordine attivo con un refuso che vedo adesso che nessuno mi ha segnalato è un maggiore uguale questo maggiore uguale 35245 quindi sopra i 35245 si va a comprare il fuzzimib sotto i 35245 si sta fermi non si fa nulla non ci sono altri segnali siamo flat vedete la colonna posizione è 0 vedete siamo flat l'unico segnale di acquisto è appunto questo al superamento di 35245 sul fuzzimib scadenza giugno quindi con uno stop order sotto sono riepilogate tutte le operazioni che sono state fatte dallo scorso dicembre quindi vedete un track record fatto prevalentemente da operazioni positive che ci ha portato sui massimi della curva con le ultime operazioni che sono state fatte da aprile tutte operazioni positive tranne una e con anche buoni guadagni tra cui l'ultima posizione sul bitcoin aperta il 15 data di apertura data di chiusura data e prezzo di apertura prezzo di chiusura più 7,67 e l'ultimissima operazione siamo andati long di Eurostox in ottica di mordi e fuggi venerdì e poi lunedì abbiamo chiuso il long prima della discesa quindi abbiamo chiuso molto bene vicino ai massimi a 1,22% attualmente come detto siamo long non ci sono segnali di reingresso se non questo sul fuzzimib questo giusto per far vedere anche il funzionamento del report sui future che può essere replicato eventualmente anche con quello che si vuole con i contratti mini con i contratti micro o con i CFD ed è quello che in termini di performance percentuali e anche economiche sta andando meglio nel corso del 2024 bene detto questo quindi fatto vedere anche il report ah non ho ancora detto questa cosa cos'è che è cambiato rispetto allo scorso anno che ogni rubrica ha un suo canale telegram dedicato quindi per non disturbare tra virgolette con alerti inutili chi segue ad esempio le azioni Italia gli arriva magari l'alerto sui fiu c'era ogni rubrica un suo canale telegram dedicato dove arrivano i segnali questo report che viene stampato in formato pdf inviato una volta solo al giorno i segnali si inseriscono in piattaforma una volta solo al giorno poi si attende l'aggiornamento successivo il giorno dopo quindi un'operatività assolutamente replicabile da chiunque con praticamente qualunque piattaforma senza aver bisogno di stare davanti al monitor e si inseriscono i propri ordini e poi il giorno dopo ci si ripensa bene torniamo alla alla nostra piattaforma abbiamo fatto un po' una carrellata quindi avete visto l'ultima operazione chiusa sul bitcoin quindi siamo tornati flat anche qui abbiamo un mercato laterale quindi chiusa l'ultima operazione in trading stock profit vedete come siamo sotto la prima resistenza di breve che è questa dei 71 921 e poi più in alto abbiamo i massimi che sono stati toccati a marzo a 73.588 dollari andiamo ora fatta questa carrellata a vedere un po' di vostre domande un po' di vostri spunti ci sono già alcune domande allora Giovanni che chiede unicredit ha rotto la resistenza importante di 36.7 per poi ritracciare subito per poi rompere il breve con obiettivo 37 grazie allora su unicredit stiamo vivendo una fase assolutamente laterale l'ho già detto quindi il rischio delle fasi laterali continuando ad operare è quello che ci possa essere qualche falso segnale quindi diciamo così rischi calcolati per chi continua ad operare su unicredit qui siamo sul grafico weekly vedete come la volatilità è molto diminuita nelle ultime tre settimane una volta portata sopra i 35.80 livello che ancora mantiene in close sia daily che weekly il titolo si sta prendendo quindi una pausa di riflessione dopo i grandi rialzi i grandi guadagni fatti nel corso del 2024 vedete come è una fase di lateralità abbastanza lunga oramai che dura quasi tutto il mese di maggio quasi tutto il mese di maggio è stato trascorso con una volatilità molto bassa e da cosa si vede che la volatilità è molto bassa ad esempio già guardando le candele il range e l'ampiezza quindi a distanza tra massimi e minimi è molto piccola siamo in un trading range a distanza tra massimi e minimi settimanali massimi e minimi mensili è molto ridotta e poi abbiamo anche l'indicatore ATR qua nella parte bassa average true range che ci indica la volatilità volatilità quindi che vedete sul calcolato a 14 periodi in fortissimo ribasso 0.53 sono livelli di volatilità molto bassi che non si vedevano praticamente lo vedete qua da marzo quindi da due mesi e mezzo non c'era una volatilità così bassa quando la volatilità è molto bassa molto compressa è come l'effetto di una molla quindi ci si aspetta che quando verrà rotta la congestione questo trading range il mercato possa schizzare dove schizzare dove al rialzo al ribasso questo è difficile saperlo l'aspettativa è più per una rottura delle resistenze o una continuazione della salita ma mai dire mai insomma se dovesse mollare questo minimo che è i 34.81 la view andrebbe rivista in ottica di lungo periodo i 33 e i 34.15 sono invece i supporti più importanti quindi per ora ancora rimane sotto resistenza questa dei 36.73 questo è il livello cui guardare qui aveva fatto un key reversal alla rialzista quindi ad esempio nella rubrica reportazioni daily siamo rientrati con rischi del caso nel senso che come detto siamo appunto in fase laterale dei falsi segnali ci possono essere a mio modo di vedere quando c'è una lateralità così bassa i titoli molto compressi di volatilità è meglio operare con quantitativi un pochino più ridotti poi anche per la stagionalità di cui insomma come detto maggio-giugno insomma non sono di solito periodi favorevolissimi meglio luglio non male agosto invece di solito un mese abbastanza così che trascorre senza grossi contraccolpi in termini di rialzi insomma non è favorevolissimo ai rialzi andiamo a vedere quindi detto di unicredit ci sono altre domande Patrizia ci sono Patrizia la chiamo appena finito la trading room detto di questa comunicazione personale Patrizia mi chiede un'analisi tecnica su Nvidia per valutare l'entrata visto che TF su intelligenza artificiale è laterale grazie dunque allora su Nvidia finalmente almeno Nvidia ci regala un po' di soddisfazioni perché andando a vedere approfitto visto che abbiamo fatto vedere il report azioni USA report sui future andiamo a vedere anche quello sulle azioni perché qualche soddisfazione ogni tanto c'è e su Nvidia siamo long entrati a 892 il 7 di maggio colpita già a metà posizione uscita in metà posizione a target trading stop profit alzato quest'oggi a 1021 dollari quindi molto bene la posizione su Nvidia un po' meno bene Apple Amazon e Microsoft perché non sono in trend non sono schizzate rialzo come Nvidia veramente ritornata a correre tantissimo gli altri titoli sono un pochino più zoppicanti in particolar modo Amazon ed Apple su Microsoft abbiamo quasi portato lo stop a pareggio quindi siamo abbastanza tranquilli quindi Nvidia titolo che in forte rialzo assolutamente adesso andiamo a vedere anche il grafico e per supportare un po' la domanda di Patrizia andiamo a vedere Nvidia eccolo qua Nvidia Corporation allora ho fatto vedere che noi siamo entrati a 8,21 se non ricordo male quindi ha un buon prezzo 8,92 chiedo scusa 8,92 è il prezzo di carico quindi siamo entrati praticamente qui in quest'area già anticipando la rottura dei 900 dollari in questa fase calante grazie a un sistema di buyer che ha comprato quindi sui supporti andando a cercare l'inversione sfruttando questo key reversal c'è stato questo key reversal realzista poi sul pullback il trading system è entrato long che cosa si sarebbe potuti fare al di là di quello che abbiamo fatto noi con nella rubrica e col trading system che cosa si sarebbe potuto fare un'opzione era entrare già dopo questo key reversal realzista il key reversal non è stato più negato e quindi rimanendo long mettendo lo stop sotto al minimo del key reversal key reversal ormai vi dovreste conoscere vi faccio come ho detto ieri su classe NBC una capa tanto tutti i giorni ormai li dovreste conoscere e vi dovrebbero essere utili nel prendere decisioni operative questo era un primo livello quindi che si poteva sul quale poter entrare long su Nvidia nel caso in cui uno fosse stato titubante e quindi o si fosse perso questo segnale quale poteva essere un secondo segnale qua analisi precedente avevamo tracciato questo livello di resistenza sui 9,70 dove resistenza che si è formata con un key reversal ribassista qui 9,74 questo massimo il 9 di marzo che poi è rimasto inviolato si è avvicinato a questo massimo il 9,67 punto 66 25 di marzo non l'ha superato siamo andati giù siamo tornati vicino a questo livello di resistenza e poi precisamente l'ha rotto in gap up quindi il secondo eventualmente anzi prima ci poteva essere questa resistenza intermedia quindi rottura dei 9,10 area dei 900 9,10 terzo livello la rottura dei 9,70 quindi entrando qui magari comprendendosi anche qualche rischio perché c'è stato un gap up rialzista questi erano i tre livelli le tre possibilità per entrare long su invidia non ne cito una quarta perché perché non ne cito una quarta perché adesso è un po' come lanciare una moneta io credo che se guardiamo al medio lungo il titolo invidia possa salire ancora quindi la mia aspettativa è che il titolo invidia salga ma sapere se salirà in modo lineare come ha fatto ad esempio in questa fase qui in questa fase che è stata da novembre dello scorso anno fino a marzo oppure se tornerà indietro è lanciare veramente la monetina perché il rischio andando long adesso è che siamo tiratissimi con gli oscillatori abbiamo un valore di RSI 86,48 ci sono due gap aperti questo l'ultimo gap che è stato lasciato no aspettate perché qui manca una candela non so perché il grafico non si è aggiornato quindi non vorrei dire una sciocchezza sull'entità del gap che adesso c'è stata una candela intermedia qua mi veniva il dubbio perché questo gap così alto non me lo ricordavo ah sì 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 perché c'è stata no no è giusto è giusto è giusto c'è stato questo gap che si è formato e ora a questo punto a questo punto con gli oscillatori che sono stati così così tirati a mio modo di vedere non conviene andare a fare nulla entrare adesso long su Nvidia è un rischio è un rischio abbastanza importante per cui io eviterei ma anche la candela di lunedì perché giustamente lunedì c'era la chiusura per il memorial day della borsa americana quindi borsa chiusa quindi lunedì non c'è la candela della di Nvidia quindi c'è stato questo forte gap e a questo punto direi di avervi detto tutto se andiamo a vedere cosa è successo in precedenza con dei valori così alti di RSI guardate sui due picchi precedenti sui due picchi precedenti quindi questa è tutta didattica eccola qua allora due picchi precedenti uno è questo e vedete che è proprio stato in corrispondenza di questo key reversal e ribassista che i suoi effetti li ha prodotti perché per diverso tempo Nvidia ha smesso di salire anzi ha avuto una fase correttiva abbastanza importante dopo questo key reversal e rialzista siamo passati dai 9,70 siamo andati giù fino ai 7,58 quindi non si può dire che questo key reversal ribassista in ipercomprato effetti non ne abbia prodotto e poi se andiamo a vedere se andiamo a vedere i picchi precedenti qui ha fatto un picco si è stabilizzata per 3,4 sedute ma qui non ci sono state grosse conseguenze non ci sono stati key reversal ribassisti picco precedente invece vicino a livelli analoghi c'è stata una correzione eppure una fase laterale abbastanza accentuata per cui il rapporto rischio rendimento non sarebbe favorevole adesso per andare long su envidia comprarla proprio sui massimi con due gap aperti è un rischio personalmente io non mi prenderei chi è già long come noi nella rubrica insomma ha l'agio di poter gestire la posizione in trailing stop profit sperando che possa continuare a salire se dovesse fare un pullback e chiudere il gap meglio comunque fare una fase laterale dove smaltire un po' di percomprato sarebbe preferibile per chi ha perso il treno ma prendere il treno in corsa è un po' pericoloso quindi scusatemi se mi ci sono soffermato un po' su envidia ma penso che a livello didattico insomma c'erano le cose da dire fossero tante vado a vedere anche le domande che dell'altra chat quella di chi scrive su youtube livelli btp novità no già detto in apertura prima di leggere le domande ho mostrato i livelli assolutamente nessuna novità ho già commentato il btp poi il tonino chiede orsero e denora vediamo orsero torniamo sull'italia orsero eccoci qua orsero dunque se per caso la domanda fosse stata successiva l'analisi del btp che ho fatto avete a disposizione le registrazioni quindi le trovate su tutti i miei social le troverete nella tarda mattinata all'interno del canale telegram e poi mi potete seguire su instagram facebook x e chi più ne ha più ne metta linkedin eccetera eccetera orsero eccolo qua orsero scuoto la testa perché che cosa vediamo orsero appena fatto nella seduta di ieri un nuovo minimo praticamente 12.94 o quantomeno minimo allineato a quello del 24 di maggio siamo sui minimi da dal settembre 2023 minimi a sei mesi anzi più di sei mesi siamo sui minimi a nove mesi praticamente un parto podalico direi quindi le cose non è che stiano andando benissimo su orsero si è portata sotto a questo supporto quindi non vedo particolari pattern di inversione il rischio rotto questo supporto è di andare giù verso quest'altro livello di supporto sui 12.51 il trend per ora è saldamente ribassista non ci sono supporti imminenti non ci sono pattern di inversione quindi la cosa migliore da fare su orsero e non guardare orsero e guardare qualcos'altro forse magari mantenere un certo distacco per ora tra l'altro anche i volumi sono molto molto scarsi quei volumi che ci sono stati sono stati volumi ribassisti quindi per ora insomma poco interessante salvo sorprese orsero l'altro titolo invece mi pare denora denora già visto anche ieri su classe mbc quindi da ieri non è che sia cambiato granché su denora direi infatti non è cambiato granché l'impostazione non è assolutamente rialzista neanche in questo caso è un'impostazione più votata al ribasso che non al rialzo il titolo il peggio sembrerebbe averlo scontato ma insomma il trend vedete che altre fasi correttive guardate questa fase questa qua andiamo eccola questa fase correttiva all'interno di un trend ribassista non vi ricorda questa non vedete delle somiglianze tra questa fase e questa il mio timore è che si riprenda a scendere quindi temo che anche denora finché non andrà è vero che ha recuperato il 1291 questo livello si è portata sopra è stato supporto poi è diventato resistenza è riuscito a recuperarlo però il livello per me chiave in ottica di lungo periodo è questo che è molto distante dalle quotazioni attuali un po' più di ottimismo arriverebbe già qua sui 1477 recuperando questa candela di inversione ribassista o meglio di ripresa del ribasso perché qua stavamo già scendendo molto forte quindi questo key reversal ribassista molto evidente con un ampio range quindi anche De Nora per me io lascerei stare poi vi ribadisco il concetto ma sempre in funzione costruttiva e didattica concentratevi in assenza di supporti in assenza di patria di inversione concentratevi più l'operatività sui titoli forti sui titoli che trascinano il listino non quelli che affondano il listino che lo trascinano giù ma i titoli forti perché se abbiamo una borsa lo ripeto se abbiamo una borsa che è sui massimi degli ultimi 16 anni e vado a prendere dei titoli vado a selezionare dei titoli che fanno peggio del listino allora tanto vale che mi compri il listino se io faccio trading o investing in ottica di medio e lungo periodo sui singoli titoli devo cercare di comprarmi quei titoli che fanno meglio del listino non quelli che fanno peggio se no mi compro un ETF sul Fuzzimib e buonanotte faccio meno fatica spendo meno commissioni e soddisfazioni sono probabilmente o anzi sicuramente migliori ripeto sempre questo in ottica didattica in ottica costruttiva perché comunque ci sono sempre anche nuovi ascoltatori che si affacciano e che ascoltano poi buongiorno anziché su youtube la si può seguire su zoom si lo dico praticamente tutti i giorni dal canale telegram le domande che prendo infatti molte sono dal canale telegram quindi zoom e alcune da youtube poi Brunello Cucinelli sono entrato long subito Brunello Cucinelli con le segnalazioni rapidità le può recuperare ma come l'ho commentata mi pare anche ieri e ieri l'altro ieri sono sicuro su class SMBC e ho detto che Brunello Cucinelli è comunque un titolo pure che non è assolutamente in trend rialzista quindi abbiamo seguito il segnale proveniente dal chi reversa la rialzista quindi tentando l'inversione però è un titolo in trend di bassista per ora Brunello Cucinelli quindi ci può stare il tentativo di acquisto seguiamo un modello un trading sister quindi la statistica comunque è favorevole però quantomeno quello che sto facendo io quando opero contro trend su un titolo che fino a questo momento è abbastanza debole il trend insomma l'abbiamo già analizzato più volte a livello di quantitativi più basso rispetto ad altri c'è ancora chance che possa recuperare almeno finché rimane sopra al minimo che si è formato con questo key reversal se dovesse mollare questo minimo la situazione di Brunello invece si complica con il rischio di scendere sui supporti successivi l'8931 e poi l'8571 vediamo le ultime domande prima di salutarci e poi di fare alcune chiamate anche a persone a clienti allora vediamo un attimo solo che mi è scomparsa la chat eccola qua posso Carlo mi chiede posso inviare una formula VT da correggere sì se non è una formula che mi richiede due ore di lavoro me la mandi e ci guardo e gliela correggo poi Farmanutra avrei un ingresso weekly e sojefi vediamo queste le ultime domande andiamo su Farmanutra eccoci qua un ingresso long ingresso long faccio più fatica a vederlo io sinceramente l'ingresso long qua perché non vedo particolari pattern di inversione vedo un trend ribassista molto forte vedo un titolo che ha fatto il pullback ma sono immediatamente tornate le vendite addirittura con un key reversal ribassista qua che qualche effetto lo sta producendo quindi è scesa ha accelerato al ribasso come reazione dell'accelerazione ribassista rompendo questo supporto qui ha fatto il pullback e dopo il pullback sta riprendendo a scendere la resistenza ha tenuto in close quindi io faccio fatica a vedere la long farmanutra adesso temo che possa scendere di nuovo verso il minimo 46,75 vediamo l'altro titolo invece che è stato chiesto sojefi vediamo sojefi eccolo qua sojefi situazione laterale ma io anche sul sojefi sinceramente rimarrei flat perché la vedo tra un supporto e una resistenza e una delle regole che insegno sempre questo supporto questa è la resistenza in mezzo tra un supporto e una resistenza è meglio non fare niente quindi anche sul sojefi è un po' come lanciare una monetina io rimarrei flat magari sul supporto se ci dovesse tornare qui ci si potrebbe ragionare perché consente di tenere uno stop abbastanza stretto entrare adesso lo stop dove lo mettiamo lo stop se entriamo adesso è difficile posizionare uno stop bisogna uno stop sensato sotto al supporto o 264 addirittura sotto qua 255 siamo a 293 è uno stop importante altrimenti è difficile posizionare uno stop qua quindi tra un supporto e una resistenza meglio star fermi poi l'ultimissima domanda prima di salutarci la pomona domanda di Anisdegna sul titolo ASML holding andiamo a vedere quindi ASML eccolo qua ASML abbiamo un titolo che pure tra supporti e resistenze questo supporto questa la resistenza quindi siamo circa metà non ci sono pattern particolari in questo momento quello che l'unico pattern che si è visto è stato questo key reverse alla rialzista qui che qualche effetto l'ha prodotto con il titolo che poi per tre sedute è salito prima uno 006 1,44 quest'oggi 0,71 quindi un 2,5% rispetto al pattern c'è stato però entrare adesso mi sembra tardivo ecco ci sono appunto siamo quasi al 50% di spazio tra un supporto e resistenza gli oscillatori non ancora tirati ma siamo vicini all'ipercomprato 68.91 direi che anche qui la cosa più saggia sia rimanere flat su sml bene detto questo io vi ringrazio dell'attenzione vi lascio con una cosa importante sulla quale insomma devo alcune telefonate che devo fare sono appunto per persone che sono interessate al corso che si terrà a Riolo Terme 23 24 e 25 agosto ho raccolto un po' di informazioni ieri con la struttura per poter rispondere alle domande già che sono arrivate persone che vogliono iscriversi vi mostro riprendo in condivisione prima di salutarvi eccolo qua questa è la locandina del Quanta Trading Campus che trovate sul canale telegram sul mio sito enricomalverti.com è stata condivisa su tutti gli altri social tre giorni di formazione a Riolo Terme 23 24 e 25 agosto come vi dicevo il grand hotel quindi un luogo bellissimo immerso nel verde piscine tutto quanto c'è di meglio per poter rilassarsi però non solo relax ci sarà anche tempo per il relax ma saranno tre giorni di formazione questo è il calendario il primo giorno dalle 14 alle 16 arrivo e sistemazione in hotel poi dalle 17 30 fino alle 17 30 chiedo scusa spazio relax quindi chi vuole fare le terme chi vuole dedicarsi allo sport le passeggiate wellness piscine e quant'altro dalle 17 30 alle 19 30 prima lezione quindi vi spiego il mio protocollo operativo di trading le regole più importanti che utilizzo per il mio trading per la progettazione delle mie strategie supporti resistenze oscillatori patter quindi escludiamo tutto quello che secondo me diciamo non voglio dire che non funziona ma funziona per me meno bene e ci concentriamo solo sulle cose che a mio modo di vedere funzionano meglio poi un quadro di insieme per individuare il main trend dei punti di inversione del mercato il secondo giorno sarà quello più impegnativo dalle 9 alle 12 30 dalle 14 30 alle 17 30 parleremo delle ultime frontiere del quanta quindi come selezionare i migliori indicatori come individuare i set di regole che funzionano con machine learning non c'è bisogno di programmare di saper programmare nulla lo metto in chiaro quindi non non c'è bisogno di parlare di programmazione di python di questo di quell'altro se qualcuno sa programmare benissimo meglio ancora ma non è assolutamente necessario perché parleremo di machine learning e di algoritmi che consentono di poter realizzare di strategie soprattutto al mattino senza aver bisogno di saper programmare illustreremo come selezionarle soprattutto le strategie quali filtri utilizzare come gestire la posizione dove posizionare gli stop i target come testare una strategia appunto selezionando gli esempi migliori e le strategie migliori l'ultimo giorno dalle 9 alle 11 30 la diversificazione multimarket capire le differenze come modificare una strategia come modificare il proprio trading in funzione del sottostante perché tra etf azioni future commodities e crypto sono mondi diversi e una strategia ha bisogno di essere adattata in funzione del time frame del tipo di sottostante perché ognuno di questi ha delle peculiarità per cui quello che metto dentro in una strategia sulle commodities non lo metto dentro in una strategia sulle crypto ma anche sulla gestione della posizione diversa e poi che altro dirvi scendendo qui trovate i costi e tutti i dettagli per poter partecipare l'ultima cosa che vi dico è che il prezzo che trovate è all inclusive quindi anzi ve lo andiamo anche a leggere intanto che ci siamo il prezzo totale 1050 euro è all inclusive quindi comprensivo della sistemazione alberghiera due giorni nel grande hotel terme di riolo terme e anche del corso ovviamente e dei pasti quindi direi che sia anche un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello che si trova in rete vi ringrazio ci sentiamo domani per la trading room domani sapete che io ho questa passione delle moto e lo vedete anche lo sapete chi mi segue è anche dalla copertina del mio ultimo libro nel quale abbiamo fatto diversi esempi parallelismi tra il mondo degli algoritmi utilizzati per gli investimenti in borsa col mondo dell'analisi dei dati nella MotoGP o la Formula 1 valgono gli stessi concetti giusto per renderli un pochino più semplici e comprensibili domani sarò mi prendo una giornata per andare al Mugello nel paddock della MotoGP approfitterò per salutare magari anche Matteo Flamini che con me ha scritto questo libro e cercherò farò intorno a mezzogiorno vi darò poi l'orario esatto una diretta alla trading room di domani la facciamo dal paddock della MotoGP buon trading a tutti e a domani